È uscita Hitmania Special Edition 2015, due cd al prezzo di uno, con i successi del momento. Hitmania Special Edition 2015, inedicola e nei negozi di dischi a prezzo speciale. È uscita Hitmania Special Edition 2015, due cd al prezzo di uno, con i successi del momento. Hitmania Special Edition 2015 In edicola e nei negozi di dischi a prezzo speciale